Ha travolto due bambine sulle strisce pedonali e poi si è dato alla fuga. Immediata è scattata la caccia al pirata della strada, individuato dalla municipale, un 52enne cortonese, che adesso dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso, fuga dopo l'incidente e lesioni stradali. Tutto è successo lo scorso venerdì, poco dopo le 17, lungo la strada regionale 71. Le due bambine, entrambe di 12 anni, prima avrebbero verificato entrambi i lati della carreggiata, poi avrebbero cominciato ad attraversare la strada, ma una moto proveniente da Cortona le ha travolte sulle strisce. Nonostante la caduta per l'impatto, il 52enne si è rimesso in sella e si è dileguato, immediato all'intervento di una pattuglia della municipale, che ha subito avviato le indagini. Grazie ai cittadini testimoni dell'accaduto, gli agenti, incrociando i dati della videosorveglianza, hanno potuto individuare il pirata della strada, che nel frattempo era tornato a casa a Cortona. Gli operatori hanno sequestrato la moto, tra l'altro priva di assicurazione, e lo hanno denunciato. Le bambine, invece, sono state soccorse dai sanitari del 118. Una è risultata illesa, mentre l'altra è stata ricoverata all'ospedale San Donato per alcuni accertamenti.